Benvenuti a tutti ragazzi, quest'oggi siamo nella Lifebot, nel server Lifebot E giocheremo alle Bedwars, come avrete già visto sicura... Sicuramente Allora, quindi Badwars, Badwars, Badwars Update Perfetto, andiamo in Duos In attesa dei giocatori, aspettiamo un minutino Intanto siamo un po' qua a parlare Come va? Tutto bene? Mi è sembrato che mi stessero bussando alla porta di casa Ma niente, era solo un fasso allarme Ok, comunque, come va? Vi ricordo sempre di iscrivervi e lasciare like Iscrivetevi anche al canale di Nick500 Che troverete in descrizione Si chiama Nick500 Pokémon Collector E appunto porterà video di Pokémon Ok Sono nella squadra viola io Ok Tingotto di ferro Blocchi Che non ha più niente, tanto Riprendo l'handstone Visto che ho un Visto che ho dei lingotti Ok Riprendo l'handstone E un altro po' di handstone E rivestiamo un po' il letto così Dov'è il letto? Ok Un letto Eh? Due Tre Quattro Cinque Sei Un altro lingotto Un altro lingotto Brother Prendi un altro Ok Allora Subito questo Poi questo Poi questo E non me ne escono più Abbiamo 48 di lana E altri due di brick Ah Ok Quanto pare non me la fa piazzare Rivestiamo giusto un altro po' Infatti non capivo perché Ma quanto pare il letto è alto due Allora Andiamo un po' nell'isola centrale Sto un po' qua a difendere E se arriva qualcuno lo stuzzo Voglio fare piano perché Non voglio morire Stavo già per morire Non ci posso credere Maria Io vado a prendere un altro Po' di handstone Mannaggia Allora blocchi Mi prendo lana 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 Stun 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 E stone Perfetto La rivestiamo un po' Altra Stone brick Cioè si stone brick Netherstone Ok Blocchi Netherstone Endstone Oh Oggi sono addormentato Comunque Se non l'avete visto Andate a vedere la vanilla L'ultimo video della vanilla Non vi preoccupate Allora Vado un po' nell'isola centrale Ferro Volevo solo controllare Che batteria stasse Ok Buono 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 Compadere Dov'è? Io direi di dirigermi Verso Un'altra isola Quindi siamo Lì C'è il letto Di che Colore Mi vado a prendere L'arco e le grecce Ok Questo è il mio compadre Giusto? Ok Sì E dai Ok No Non picconi Ok Archi Mannaggia Il letto rosso E ancora Andiamo ad eliminare Il letto rosso Se mi fa piazzare Il blocco Magari E perché Non mi fa piazzare Il blocco Ok Mentre se è buggato Il gioco Ok Allora è un po' più rilassante Questo come video Sì vabbè Le bad wars rilassanti Ok Andiamo Mi sembra protetto Solo da lana Il letto Il che È molto positivo Il primo video Questo è Delle bad wars Eh Le bad urse Mi piacciono tanto Fin da quanto Ero piccolo Cioè Mi piacciono Veramente molto Ok 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 Fa niente Io ho distrutto il letto Ok Ok Poi niente Sono morto Subito blocchi Perché crafting Indietro Blocchi Vado a killare i tizi Dell'isola rossa No No Amica C'è il mio compadre lì Ok, vi ho eliminato una squadra Quindi Non ci posso credere Sono caduto da solo Io lo sapevo che dovevo cadere da solo Subito tutto Blocchi Io ho fatto l'upgrade in teoria Sì, ok, perfetto Ma la spada dove la posso upgrade Ultime difette michaevole Incantevole Oggetti speciali No, boh Il letto qui è Tutto a posto C'è qualcuno lì? Il letto green è solo distrutto dal mio amico Ok, perfetto Direi di allontanarmi anch'io Ma sì, dai, dai Ok L'ingotto d'oro Ok Vediamo se riusciamo a rompergli il letto Ma fa un bagno Non ci sono riuscito Dove prendermi piccone assolutamente Piccone Allora Devo riandarci subito là No Devo rifarmi l'upgrade Blocchi Boom Boom Poi indietro Upgrades S5 E 5 Perfetto Oh Ah no, non c'è lì Ok Faccio Perfetto Andiamo a combattere Che manca solo il letto ciano Oddio mio Mi hanno quasi ammazzato Sì L'ho chillato Gordo Oddio mio Non ci posso credere No? Ok Sono cattivello Ok Se vi piacciono le pedos Se vi piacciono le pedos Lasciate like Magari le porto un'altra volta sul canale Se si Posso Acrivere Mi ha detto È stato distrutto Mannaggia Mi dispiace Raga Vabbè Facciamoci un'altra partita Facciamo Team da 4 Dai che è più carino come gioco E dura un po' di più Guardate Metto un po' in carica il cellulare Nick Sta cercando come Giocare nella mia Vanilla Di sicuro verrà a giocarci Ok Mancano 26 secondi Scrivete al suo canale Anche al mio Per favore Siamo a 22 iscritti Voglio arrivare ai 30 Ci sono 100 persone Che guardano i miei video E più Quindi Non ci mettete niente A iscrivervi Perché è anche gratis Tra l'altro E a me fa piacere Allora Ma? Cosa è successo? Si è baggato tutto Quanto pare Vabbè 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 Detto che non funziona più niente Ci Mi è lasciato un po' perplesso Volevo farmi un'altra partita Ma io me la faccio Che aspettiamo qua Per la seconda volta I giocatori E manca un minuto Per iniziare la partita Allora Mancano 35 secondi Più o meno Si Spero di Essere eliminato All'ultimo Come lo scorso round Beh ragazzi Ok Ci vediamo per la parte 2 In un prossimo video Ciao